Allora, per iniziare questa nostra chiacchierata, io direi di fare così, guardiamoci un video per ricordarci un attimino a che punto eravamo rimasti 12 mesi fa, poi iniziamo a chiacchierare. Sul maracanazzo. Allora, hanno vinto 5 mondiali, dopo quel mondiale, quindi evidentemente dal punto di vista tecnico il problema è stato superato, ma c'è tanta gente in Brasile che mi dice che dal punto di vista psicologico la nazione non è mai riuscita realmente a recuperare da quel singolo momento, ovvero sia, era il momento in cui dovevano mettersi sulla mappa del mondo per chi erano, per che cosa rappresentavano, credevano di rappresentare e quella sconfitta gliel'ha fatto ritardare di circa 30-40 anni. Ecco, io non vorrei essere i giocatori della nazionale brasiliana nei 10 minuti prima di entrare in campo al maracanà quest'anno se dovessero andare in finale perché c'è una ciclicità nella storia o addirittura essere quelli che perdono la partita prima di andare in finale. Siccome ci sono degli elementi perché questo succeda, mi dispiacerebbe per loro. Sì, proprio adesso che hanno probabilmente la squadra più scarsa degli ultimi vintanti. No, 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 voglio dire si parla così. Io penso che la loro squadra più debole che abbia vinto sia stata quella del 94, Pasadena, come valore tecnico. Questi secondo me sono potenzialmente più forti, però penso che per loro giocare questa partita e queste due ultime partite eventuali semifinale e finale sia veramente difficile. Allora, magari dopo in soppalata sede mi dai qualche dritta per la schedina perché a questo punto... Però allora ti vorrei chiedere, al di là del risultato numerico, non ti ha sorpreso più di tanto come è andata a finire al mini round? No, no, a parte il fatto che secondo me erano meno forti di quello che pensassi in quel momento proprio come squadra, nel momento in cui hanno perso i due giocatori più importanti Neymar e Thiago Silva per quella partita contro la squadra più forte. No, sinceramente era abbastanza scontato. Magari numericamente può cambiare, ma i teleschi tanto non si fermano, l'abbiamo scoperto anche in altre circostanze. Hanno il loro modo di onorarti e quello. E poi quando ero lì ho avuto la nettissima sensazione che ci fosse una differenza abissale tra il 1950 e il 2014. Ovvero sia il pubblico del 2014 era un pubblico della media alta borghesia brasiliana che poteva permettersi di spendere i soldi per andare a vedere la partita. Mentre il pubblico del Maracanã del 1950 era un pubblico del classi popolari, era veramente la torcida del pubblico brasiliano. Quindi il livello di disperazione di allora penso che non fosse neanche vagamente paragonabile a questo perché era diversa l'emozione e nel 1950 i brasiliani erano sicuramente la squadra più forte, mentre qui probabilmente non erano nemmeno le prime tre. E poi quella partita è talmente difficile perché finisce in dieci minuti che non hai neanche il tempo di disperarti. Soffri disperandoti gradualmente e poi capisci che non eri competitivo. Parecchi giornali brasiliani del giorno dopo sono usciti bianchi la prima pagina, cioè c'era il nome, la testata è tutto bianco, non avevano niente da dire, non volevano parlare di minerasso, questo è un termine che loro non utilizzano. Ancora adesso può capitarti di incontrare delle persone di 50-60 anni, anche donne, che su un piccolo incidente domestico, tipo succede un disastro, cioè si fa male qualcuno, che maracanasso, cioè quella parola è parte della loro cultura per esprimere una situazione disastrosa in attesa, nella lingua delle nonne che c'erano il 50 o anche dei nipoti che l'hanno sentito dire alle nonne. Non c'è paragone possibile e quella era un'osservazione che poteva starci perché è emotivamente che il Brasile poteva andare fuori anche col Cile o la traversa di Piniglia, cioè sarebbe stato anche fisiologico per certi aspetti, proprio non erano in grado emotivamente di giocare lì e la sensazione è che qualsiasi squadra possono avere a casa loro non riescono a giocare come potrebbero perché c'è troppa emozione, è ingestibile, sinceramente ingestibile. Certo, ecco io partirei proprio da qui, magari da questo mondiale che non fa parte del ciclo di racconti, ovviamente perché quello è stato fatto prima, che hai curato però da un mondiale che hai vissuto in prima persona, allora ti chiederei innanzitutto dal punto di vista tecnico, poi magari ti chiederò qualcosa della tua esperienza, dal punto di vista tecnico al di là di quel clamoroso risultato in semifinale, cosa ci ricorderemo di questo mondiale? Cosa ci porteremo dietro? Beh ovviamente ognuno l'ha vissuto diversamente, io che ho avuto il privilegio di stare lì, il Sud America che passava sotto la tua finestra, cioè c'è un periodo di circa 10-15 giorni in cui l'ora di genero è completamente controllata da tifosi sudamericani non brasiliani che arrivano al seguito delle loro squadre, quelli che mi hanno colpito di più i cileni, i cileni portavano un orgoglio spaventoso, anche una voglia di opporre il loro stato attuale nel contesto sudamericano, la loro crescita degli ultimi anni, la vehemenza con cui adorano la loro squadra ed è curioso perché la partita forse più emozionante da questo punto di vista è Spagna che li ha colonizzati, Cile in un posto tutto rosso con i cileni che dicono agli spagnoli guardate che la Roja era il nome che diamo noi storicamente alla vostra squadra dalla fine degli anni 80 inizio 90 avete cominciato a chiamarla così voi e in uno stadio non loro, completamente controllato da loro, hanno preso i campioni del mondo e per circa 30 minuti li hanno spazzati via dal campo i cileni che tornavano da quella partita, che rioccuparono tutta Copacabana parlavano con orgoglio, non ritenevano il risultato sorprendente e ci dicevano a tutti la Coppa si chieda a chi cioè magari non la vinciamo noi ma la vince una sudamericana e l'inizio era proprio stato così le sudamericane vincevano quasi sempre e anche in maniera robusta contro tutte quante e tutti quanti pensavano alla finale Brasile-Argentina quindi una cosa proprio tra di loro una Coppa America con dimensione mondiale e poi le cose sono andate diversamente e ha vinto una squadra che ha vissuto il mondiale in maniera particolarissima noi tante volte parliamo di come noi siamo tra di noi in difficoltà bastano 30 chilometri e le rivalità sono sanguinose la Germania per confessioni interne ha detto il problema fino all'edizione precedente è che tu non riuscivi a mettere i giocatori del Borussia dormo nella stanza di quelli del Monaco e il Bayern e il Borussia non possono parlarsi quindi se come dicevano in precedenza adesso poi è ancora più difficile fare gruppo perché i ragazzi hanno tutti altri svaghi nel finito la parte istituzionale vanno a giocare con l'iPad così figurati adesso e invece il giocatore più importante del gruppo vale a dire Möller uno dei più grandi giocatori viventi insieme a una commissione di tre che hanno preso in mano la squadra hanno preteso dalla federazione di andare in ritiro in un luogo dove ci sossero delle villette e hanno fatto loro le squadre dicendo chi va in camera con chi dicendo col proprio rappresentante sindacale uno del Dortmund deve dormire per forza con uno del Bayern e così via e creare questo piccolo ambiente e per far vedere che non scherzava Thomas Müller si è presentato avendo perso una partita di golf con il massaggiatore o comunque con uno dello staff di supporto fisico della squadra ed è andato vestito da camerierina bavarese con le treccine e la gonnellina in cuoio a servire i compagni di squadra compresi quelli del Dortmund come dire loro hanno pensato che per vincere bisognasse fare qualche cosa che riducesse l'impatto della rivalità che c'è comunque forte tra di loro il Dortmund è il rivale dello Schalke per territorialità e del Bayern per tutto il resto e anche loro finché non hanno risolto i loro problemi interni non sono diventati la squadra poi molto coesa che ha vinto il mondiale tra l'altro del carisma e del tipo di importanza che ha Thomas Müller l'abbiamo visto anche dopo i quarti di finale eventi del Bayern il modo in cui si è relazionato con i tifosi impressionante giocatore di calcio e ho come l'impressione che poi questo cognome ritornerà anche su altre questioni ecco